Un tunisino è stato arrestato ieri dai carabinieri della stazione di Santa Croce Camerina. L'uomo, secondo quanto ricostruito dopo la denuncia della moglie, è accusato di stalking. Sei quintali di rame sono stati recuperati dalla Polizia di Stato, commissariato di Vittoria durante un controllo del territorio. Il rame, diviso in diecima tasse, era in un casolare semi-diroccato. Un albanese di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri di Comiso. L'uomo è finito in manette in ottemperanza ad un ordine di esecuzione. Deve scontare 4 mesi e 10 giorni. A poche ore dal loro arresto sono tornati tutti i liberi 12 migranti che lunedì pomeriggio avevano sequestrato due persone operanti nel centro che li ospitava. Vittoria, il gruppo, pretendeva di continuare a percepire delle somme che non gli aspettavano più. Le royalties del petrolio vanno distribuite fra tutti i 12 comuni Iblei, lo afferma il sindaco di Modica, Ignazio Abate, che si rivolge a tutti i colleghi della provincia. Ben trovati all'appuntamento con la nostra informazione che iniziamo subito partendo dalla cronaca. Un tunisino è stato arrestato ieri dai carabinieri della stazione di Santa Croce Camerina. Secondo quanto ricostruito dopo la denuncia della moglie, l'uomo da anni maltrattava la donna e di loro due figli minorenni e per questo i due si erano separati. Il marito però non aveva accettato la situazione e aveva iniziato a perseguitarla. Ancora una storia di violenza contro una donna nell'aria Ipparina. Questa volta la vittima è una 35enne tunisina residente a Santa Croce Camerina che stanca di subire e si è rivolta ai carabinieri della locale stazione. La storia è simile a molte altre. Un matrimonio infelice, la scelta della separazione, l'incapacità per lui di accettare la situazione e l'inizio delle condotte persecutorie. In questo caso la vicenda è andata avanti per anni. Prima i litigi, sempre più frequenti e senza alcun reale motivo. Poi le grida, gli insulti, le minacce e infine, come in un copione già scritto, le botte. Vittime la donna e i figli minorenni della coppia. La situazione sarebbe potuta precipitare se la donna non avesse trovato la forza di bussare alla caserma dei carabinieri. Gli uomini dell'arma hanno subito percepito la delicatezza del caso e hanno raccolto testimonianze ed elementi oggettivi che hanno dato forma, giorno dopo giorno, ad un quadro indiziario inequivocabile. Pertanto, senza ulteriori indugi, i carabinieri hanno chiesto e ottenuto una misura cautelare a carico dello stalker. Qui sono stati contestati, oltre agli atti persecutori, anche i maltrattamenti contro familiari e conviventi. L'uomo, nella serata di ieri, è stato rintracciato dai carabinieri di Santa Croce che lo hanno arrestato e posto ai domiciliari in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare messa dal Tribunale di Ragusa. Una volta ultimate le formalità di rito, è stato tradotto nella propria abitazione. Sei quintali di rame sono stati recuperati dalla Polizia di Stato Commissariato di Vittoria durante un controllo del territorio. Notando strani movimenti attorno a un casolare abbandonato, gli agenti si sono avvicinati e gli occupanti sono fuggiti. All'interno, le matasse di cavi. Prevenire e reprimere i reati, controllando il territorio, sia la città che le zone rurali. Questo è l'obiettivo dell'attività messa in campo dalla Polizia di Stato Commissariato di Vittoria che nelle ultime ore ha setacciato anche zone di campagna considerate in stato di abbandono, ma che in effetti hanno riservato sorprese. Gli agenti delle volanti in perlustrazione incontrata a Serra San Bartola infatti hanno notato uno strano movimento vicino ad un caseggiato rurale semidiroccato. Non appena i poliziotti si sono avvicinati, ne è scaturito un fuggi-fuggi per le campagne circostanti. Almeno tre gli individui che si sono allontanati mentre i poliziotti percorrevano la mulattiera che conduce all'edificio. Sul posto la sorpresa, dieci matasse di cavo di rame per elettroconduzione di grosso diametro con guaina butilica di colore grigio. Evidente la provenienza furtiva del materiale. Al termine del servizio di controllo è quindi scattato il sequestro del materiale che è il risultato del peso di 600 kg. Adesso sono in corso gli accertamenti, volti ad individuare gli autori del reato, la provenienza e la vittima o le vittime del furto. Per gli inquirenti infatti è ovvio che il materiale sia stato rubato. Un albanese di 37 anni è stato arrestato ieri dai carabinieri di Comiso. L'uomo è finito in manetti in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione. Arrestato a Comiso nella tarda serata di ieri un 37enne albanese, Elmi Cucchi. L'uomo è stato arrestato in ottemperanza all'ordine di esecuzione per la carcerazione al termine di un intenso lavoro, svolta in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica del Tribunale Ibleo. L'esecuzione impone al pregiudicato di scontare la pena residua di 4 mesi e 10 giorni di reclusione, dal momento che è stato giudicato colpevole del reato di utilizzo di patente, di guida falsificata e guida in stato di ebrezza alcolica, commesso nel novembre 2012 a Comiso. Il pregiudicato, ben noto ai militari dell'arma che lo avevano già tratto in arresto in passato per analoghi reati, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Comiso, che dopo averlo condotto nella caserma di via Leonardo Sciascia, lo hanno ristretto nella casa circondariale di Ragusa, a disposizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ibleo, Marco Rota, per i provvedimenti di competenza. A poche ore dal loro arresto sono stati tutti scarcerati i 12 migranti che lunedì pomeriggio avevano sequestrato due persone operanti nel centro che li ospitava. Il gruppo, lo ricorderete, pretendeva di continuare a percepire delle somme che non gli aspettavano più e per questo ha messo in piedi la protesta e sequestrato due persone. Sono tornati tutti liberi i 12 migranti arrestati dalla Polizia di Stato lunedì pomeriggio perché accusati di aver sequestrato il responsabile ed un collaboratore del centro per migranti di Vittoria nel quale erano ospitati. Il gruppo, come vi abbiamo raccontato, era ospitato in un centro convenzionato con la Prefettura e già da qualche settimana, insieme a molti altri migranti, doveva essere trasferito in alcuni centri Sprar della provincia di Agrigento. In quell'occasione tutti e 34 i destinatari del trasferimento si erano rifiutati di partire protestando vehemente, tanto che era dovuto intervenire la Polizia. In queste settimane qualcuno si era convinto ed aveva consentito al trasferimento, molti altri invece erano rimasti ed hanno continuato ad usufruire dei servizi che la struttura per spirito umanitario ha erogato, benché non ne avessero più diritto. Come se non bastasse, alcuni hanno iniziato a pretendere anche il pagamento del pocket money settimanale, ossia della somma di 17,50 euro stabilita dalla Convenzione della Prefettura. L'importo, corrisposto ogni sabato, giorno 11 non è stato versato a quelli che dovevano essere trasferiti, proprio perché formalmente erano già a carico di altre strutture. Da qui la rivolta. Mentre il responsabile, un uomo di 46 anni, e il suo collaboratore 35enne, entrambi vittoriesi, si trovavano negli uffici del centro, i dodici ospiti hanno fatto eruzione e hanno chiuso la porta, intimando che non li avrebbero liberati se non avessero ricevuto i pocket money. Uno di loro si è quindi impossessato del telefono della struttura per impedire che venisse avvisata la polizia. Un altro ha tentato di strappare al collaboratore un mazzo di chiavi, tra le quali vi era quella della cassaforte. Le vittime, infine, sono riuscite a chiamare la polizia, che le ha liberate. Monica Monego, della Procura della Repubblica di Ragusa, ha disposto che tutti gli arrestati venissero posti agli arresti domiciliari, tra l'altro nella stessa struttura. In queste ore, però, sono stati tutti liberati e continuano a rimanere nel centro dove operano anche le loro vittime. E intanto il consigliere di Fratelli d'Italia Giovanni Moscato interviene sulla questione. Un episodio di una gravità inaudita, commenta. È soltanto il pronto intervento della polizia ha evitato che il sequestro potesse degenerare in qualcosa di più grave. La nostra comunità è basita e sotto shock. Quello che è successo prosegue non si può tollerare, specie in un periodo così difficile con svariate famiglie che sono ormai sul baratro della soglia di povertà. A nessuno deve essere concesso di approfittare dell'animo ospitale e accogliente dei vittoriesi, dice inviamo la nostra solidarietà ai due operatori sequestrati e un plauso alla polizia per la professionalità dimostrata. Vittoria ha bisogno di più uomini delle forze dell'ordine. Chiediamo, aggiunge Moscato, immediati interventi per evitare che le quote sempre maggiori di extracomunitari sbarcati a Pozzallo vengano dirottate tutte su Vittoria. La nostra città sta pagando uno scotto pesantissimo in termini economici e sociali che non ha le forze per affrontare una imparilotta contro le politiche fallimentari del governo. Le royalties del petrolio vanno distribuite fra tutti i dodici comuni. Ad affermarlo è il sindaco di Modica, Bate, che si chiede perché al momento ne tragga vantaggio solo la città di Ragusa e invita i colleghi Blei ad affiancarlo in questa battaglia. Il territorio è di tutti e se si verifica un problema le conseguenze le paghiamo tutti. Perché quindi i proventi milionari delle royalties petrolifere vanno solo a Ragusa? Con queste parole il sindaco di Modica, Ignazio Abate, chiama all'appello i colleghi Blei affinché tutti chiedano che il tesoro, solo quest'anno quasi 30 milioni di euro, sia diviso equamente per tutte le città iblee. La strana vicenda delle royalties porta nelle casse di qualche ente la bellezza di 30 milioni di euro come una manna piovuta dal cielo. Ci si chiede allora come mai la manna cade solo in una direzione se il territorio appartiene a tutti. Ritengo, dichiara il sindaco Abate, che sia giunta l'ora di farsi sentire se è il caso anche alzare la voce e lo faremo perché il territorio è di tutti e tutti dovremmo beneficiarne nel bene e nel male. Del resto, dice Abate, se ne è parlato già nel lontano 2007 quando era stata attenzionata l'area del Val di Noto ma poi tutto si è stranamente arenato anche se non per tutti visto che qualcuno, magari dietro le quinte, è riuscito a muovere le fila in una sola direzione in barba al territorio. A questo punto, dice, invito i colleghi sindaci a scendere in campo per far sentire la propria voce perché, come prevede la legge, i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale delle aree dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Incontrerò in questi giorni, conclude il sindaco, il ministro di competenze, il presidente della regione e il presidente del Consiglio, Renzi. La possibilità di realizzare un sottopasso carrabile è questo quanto è emerso durante l'incontro in prefettura per discutere della vicenda del passaggio a livello di via Pestum a Ragusa rivelarlo il consigliere comunale Sonia Migliore. Il consigliere comunale Sonia Migliore rivela l'esito dell'incontro in prefettura per discutere della vicenda del passaggio a livello di via Pestum. In conclusione si è concordato di verificare la possibilità di realizzare un sottopasso carrabile. Se il primo cittadino avesse ascoltato i nostri suggerimenti, ordine del giorno e dei mennamenti tutti bocciati e della sua maggioranza, dice la Migliore, all'incontro avrebbe potuto mostrare al rete ferroviaria italiana un progetto già pronto, sulla quale certamente poterà ancora discutere, ma almeno il Comune non si sarebbe ridotto a dover abbozzare uno in meno di due mesi. Il documento trasmesso dalla Prefettura parla di una collaborazione tecnica ed economica tra Comune e rete ferroviaria italiane, ma il Consiglio comunale deve ancora passare il conto consultivo 2014, il previsionale 2015 e di conseguenza anche il piano triennale delle opere pubbliche all'interno del quale avrebbe inserito questo progetto. Ancora una volta a concludere la Migliore, l'amministrazione pentastilare dimostra di non saper programmare, riducendosi per le cose importanti all'urgenza dell'ultimo minuto. Mi auguro che l'autorevole mediazione del Suo Eccellenza Verde possa continuare a farci guadagnare tempo, quanto a settembre, con ogni probabilità, il Comune non avrà ancora nulla di pronto. Migliorare la rete idrica cittadina per eliminare gli sprechi e dare lavoro a numerose imprese locali. Questa è la proposta della CNA di Vittoria, che sollecita l'amministrazione anche all'attivazione dei contatori idrici nelle abitazioni civili. Le varie crisi idriche legate a incidenti o a manutenzioni nella rete idrica vissute e superate dalla città in questo periodo ci impongono una serie di riflessioni che guardino con molta più attenzione ad una gestione sostenibile della risorsa acqua. E' quanto evidenziato dal presidente della CNA territoriale di Vittoria, Giuseppe La Terra, con il responsabile organizzativo Giorgio Stracquadagno. Pensiamo innanzitutto, spiego nei due, ad una seria sistemazione della rete idrica cittadina. L'acqua sta diventando una risorsa rara, il cui prezzo è destinata ad aumentare, per questo riteniamo le diverse perdite uno spreco non più tollerabile. Altro fattore importante è il riutilizzo dell'enorme massa di acqua reflua che si perde nel territorio. La normativa comunitaria nazionale e regionale considera il loro riutilizzo come uno degli strumenti con cui attuare una razionale e sostenibile gestione delle risorse idriche, ma ci pare che l'amministrazione da questo punto di vista, e vorremmo essere smentiti, sia stata poco attenta. Va anche considerato come il riutilizzo delle acque refluo e depurate può essere ritenuto un espediente innovativo ed alternativo nell'ambito di un uso più razionale della risorsa idrica. Infine, dopo aver gravatamente indotto l'amministrazione ad installare contatori idrici in alcune attività economiche e avendo verificato come sia i consumi sia gli importi siano notevolmente cambiati, torniamo a sollecitare l'installazione dei contatori idrici anche nelle abitazioni civili. Il pagamento sulla base dei volumi consumati indurrebbe i cittadini a non sprecare l'acqua. Queste nostre considerazioni sono tenute assieme da un unico filo conduttore e precisano creare opportunità e lavoro per le nostre imprese. La riqualificazione del nostro sistema idrico oltre a migliorare la qualità della vita permetterebbe alle numerose imprese del settore di ottenere commesse di lavoro. Sin da ora possiamo assicurare che la CNA territoriale di Vittoria concludono si impegnerà verso questa direzione. L'amministrazione comunale di Vittoria sempre più assente ed incapace di gestire l'ordinaria attività di servizi alla città lo afferma il consigliere comunale di Forza Italia Salvatore Artini che punta l'attenzione sulle condizioni di Baia Dorica Costa Fenice punta ad Angela Scoglitti a suo dire in totale abbandono e con gravi carenze di pulizia ordinaria. Chiediamo al sindaco di verificare il rispetto dei compiti appaltati alla ditta privata responsabile della pulizia cittadina e di conseguenza applicare misure urgenti di intervento sostitutivo e penali risarcitorie. Restiamo a Scoglitti nuovo presidente per il consiglio di circoscrizione venerdì sera infatti è stato eletto Alessandro Macauda esponente di Fratelli d'Italia. Il consiglio circoscrizionale di Scoglitti ha eletto venerdì scorso il vicepresidente. Si tratta del consigliere Alessandro Macauda a commentare l'elezione di Macauda il presidente Salvatore Poedomani che ha dichiarato l'elezione rappresenta motivo d'orgoglio per me e per il gruppo Fratelli d'Italia Scoglitti perché non avendo una maggioranza la spaccatura del PD è stata ancora più evidente nel consiglio di frazione. Il voto del consigliere Antonin Corvaia e le due schede bianche di Giorgio Cascino e dell'indipendente Emanuele Cascino rappresentano infatti la presa di distanza verso l'attuale amministrazione che governa la città. Il neo eletto vicepresidente invece ha voluto ringraziare quelli che definisce i suoi amici e compagni di viaggio Luca Fichera crocifissa in Corvaia e soprattutto il presidente Salvatore Poedomani per la continua fiducia dimostrata nella mia persona ha detto continueremo a lavorare per il bene della nostra comunità come abbiamo sempre fatto in questi anni ringrazio anche il consigliere Antonin Corvaia per aver creduto in me insieme al presidente Poedomani annuncia Macauda cercheremo e faremo di tutto per concludere il nostro mandato elettorale nel miglior modo possibile anche perché all'interno del gruppo consigliare di Fratelli d'Italia si è fatto sempre gioco di squadra a differenza di quanto avviene nel PD dove dice le mancate presenze le contraddizioni e le spaccature interne dimostrano il fallimento di questa amministrazione comunale Al via il prossimo venerdì 17 luglio la prima edizione dell'Handy Pride un'iniziativa che punta a far riflettere sulle tematiche riguardanti l'intero mondo della disabilità dal 17 luglio al 21 agosto parte l'Handy Pride l'iniziativa vuole essere un'occasione di riflessione sulle tematiche riguardanti l'intero mondo della disabilità nel corso delle tre serate si parlerà di handicap dei diritti sancitti ma non applicati dei rapporti col mondo circostante e per farlo degli attori interverranno le esibizioni leggendo e commentando gli articoli della convenzione ONO sui diritti delle persone disabili gli eventi saranno molteplici concerti spettacoli teatrali e sport si risolveranno tra Chiaramonte Scoglitti Dona Fugata Museo Carcheologico di Camerina e Avola per il concerto 17 luglio a Chiaramonte per lo spettacolo teatrale il giorno 25 a Dona Fugata per quello del 1 agosto del Museo Camerina è possibile acquistare i biglietti in prevennita in modo da poter partecipare rispettivamente a una pericena il 17 luglio a una grigliata il 25 luglio e una pericena il 1 agosto a Camerina il contributo andrà a finanziare in parte l'acquisto di una carrozzina molto speciale studiata per consentire alle persone con disabilità motori di fare escursioni in mezzo alla natura con lo silo di un'altra e due persone per la prevennita dei biglietti è possibile recarsi presso il castello colonna Enriquezzi di Vittoria Prima di salutarci rivediamo insieme i fatti in primo piano Un tunisino è stato arrestato ieri dai carabinieri della stazione di Santa Croce Camerina l'uomo secondo quanto ricostruito dopo la denuncia della moglie è accusato di stalking per anni avrebbe maltrattato la moglie e i figli minorenni picchiandoli finché la donna non lo ha lasciato l'uomo però non si sarebbe rassegnato e avrebbe iniziato a perseguitarla finché la vittima esasperata si è rivolta ai carabinieri sei quintali di rame sono stati recuperati dalla polizia di stato commissariato di Vittoria durante un controllo del territorio il rame diviso in diecima tasse era in un casolare semi diroccato notando uno strano movimento gli agenti sono avvicinati ma a quel punto diverse persone sono fuggite dal rudere abbandonando il rame si tratta senza dubbio di materiale rubato intanto le indagini proseguono un albanese di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri di Comiso l'uomo è finito in manetti in ottemperanza ad un ordine di esecuzione deve scontare quattro mesi e dieci giorni è stato giudicato colpevole di aver utilizzato una patente di guida falsificata e di aver guidato in stato di ebrezza alcolica i reati sono stati commessi a Comiso nel novembre del 2012 l'albanese tra l'altro era stato già arrestato per analoghi reati a poche ore dal loro arresto sono tornati tutti liberi i 12 migranti che lunedì pomeriggio avevano sequestrato due persone operanti nel centro che li ospitava Vittoria il gruppo pretendeva di continuare a percepire delle somme che non gli aspettavano più da qui la rivolta con il sequestro del responsabile del centro ed un suo collaboratore le vittime sono per fortuna riuscite a chiamare la polizia che le ha liberate le royalties del petrolio vanno distribuite fra tutti i 12 comuni Iblei lo afferma il sindaco di Modica Ignazio Abate che si rivolge a tutti i colleghi della provincia al momento ad usufruire delle somme versate per trivellare davanti alla costa il sole il comune di Ragusa ma Abate non ci sta intende rivolgersi al ministro competente al presidente Crocetta e al presidente del consiglio Matteo Renzi è tutto grazie per l'attenzione arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti